Il green, l'Europa green, ci hanno fatto due teste così, due meloni, eh? Non di Giorgio... Eh? Ma due... Col green, la macchina elettrica. Adesso sono le armi. È uscito Draghi e ha detto, no, ma il green è una cretinata, ci siamo sbagliati. Armi? Ma come? Ma se un giorno prima era tutto green, doveva andare l'acqua green, la macchina green, la bicicletta green, i capelli green, io no? Ma una bella parrucca green? No, adesso è sparito tutto. Eh, certo, chiaro, perché quando esplode un deposito di carburante in Russia e in Ucraina, con 75 tonnellate di petrolio dentro, eh, non è green. Il carroarmato Leopard 2 non è un euro 6, eh? Ma neanche un euro 5. Io non so neanche se è un euro 0, se per questo. E quindi il green è abbandonato. Abbiamo scherzato. Che ridere. Adesso abbiamo le armi. Greta, ce l'hanno smenata tutti i santi giorni, questa bambina che andasse a studiare. E si desse da fare. No, Greta è via, morta. Era famosa. Via Greta. Come ha detto Free Palestine, Greta. Via Greta, pussa via. Chi ti conosce? Via. Pussa via Greta. Canto sei brutta. Grazie. Chi ti conosce. roasted.